Migliora la dotazione di infrastrutture in Toscana, ma la strada è ancora lunga e sicuramente c'è bisogno di una cura del ferro e di portare a conclusione opere strategiche. A Dirole l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, durante la due giorni di confronto a Firenze sul tema della mobilità. Fra le opere realizzate di recente in Toscana c'è il People Mover, fra la stazione e l'aeroporto di Pisa, e la nuova linea ferroviaria elettrificata fra la darsena del porto di Livorno e Calambrone, collegata alla direttrice tirrenica. Ma non solo. In questo ultimo anno abbiamo visto anche l'inaugurazione di opere importanti che vanno in questo senso, penso al bypass del Galluzzo, penso al parcheggio scambiatore, primo esempio in Italia, di accesso ad un parcheggio dall'autostrada e per poi poter utilizzare la tramvia che in 20 minuti da Scandicci porta al centro di Firenze. Stiamo vedendo opere importanti come il primo lotto del raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca che sta procedendo nei tempi previsti. Per quanto riguarda il futuro, Ceccarelli ha confermato il via libera in ottobre dei lavori per il tunnel ferroviario sotto Firenze, mentre sarebbe addirittura d'arrivo anche la valutazione di impatto ambientale per la nuova pista dell'aeroporto di Peretola. e dovrebbero partire nel 2018 i primi cantieri per l'adeguamento della Tirrenica. Secondo uno studio dell'IRPET, i 3 miliardi e 800 milioni di investimenti sulle infrastrutture programmate dalla Regione Toscana entro il 2019 porteranno, entro i 10 anni successivi, a 137 mila posti di lavoro in più.